Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su Prince of Persia Questo nuovo Prince of Persia, non mi ricordo come si chiama il proseguire Però comunque questo Prince of Persia Interagiamo con un tizio Amoletti, parla, parliamo con questo La regina della foresta sente tutto Onde di Atra Atra, un, tra, atra cosa Seleziona A livello, no, non posso proprio Livello 1, livello 2, non posso cambiarli Vabbè, pensavo poter fare Amoletti Questi sono e questi mi tengo Vabbè, e niente, si va Si va Si va Ora ecco Ok Quindi ho Ah Ok Tanto qua C'è un mistero qua C'è un mistero qua C'è un mistero qui Aspetta Aspetta com'era Aspetta com'era Aspetta Niente Non riesco Porca Aspetta com'era Ok Ok, con la parola Non mi ricordavo più Come ti fa la parata Va bene Oh Finalmente Io Non immaginavo che Facesse qualcosa Però dovevo colpirlo Oh, salve Parla Sì Vabbè, questa volta Eh, sì Sì Eh, infatti Mi stavo facendo perdere il senno Non è malato Ho proceduto a questo posto Di tutta la vita Il caff è maledetto E questo è che percepisci Non riconosco la tua armatura Non sei un soldato Ardashir Abbiamo attraversato Di mai per attaccare Il palazzo di Dailu Ma stiamo rimasti Intrappolati Vedarius È morto Trent'anni fa Il palazzo è abbandonato Così Tanto Non armi No E mi aiuterà a uscire da qui Non so cosa offrirti Ne garanti Ne vale la pena Aiutami Fini anche a perdere il tutto La testa Accettare una missione Vabbè Vabbè Ok Adesso trova L'amico Vabbè E Ok Intanto posso Vedere la mappa Come sarebbe l'amico tu Ha bisogno del tuo aiuto Eh Sì Ah ci sono Qua cos'è E dove sono morto Vossa leggenda Ultima Ah sì E dove sono morto Ultima volta Vabbè Allora Quindi Ok Vabbè Porco Vabbè Ok Qua è la vecchia meccanica del Più Tieni premuto Più salti Aspetta Infatti Qua c'è Albero Qua c'è Albero Amuleti Cosa Non ho trovato niente Quindi Ti va avanti Proprio Proprio Mai Nella vita Arriverò Proprio Mai Nella vita Lì E Bu Ah Ok Ok No Allora Uno Due Tre Di qua Ok 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 Qua mi raccolgo pure Sti Tallini Che non ricordo A cosa servono Non ricordo Sinceramente A cosa servono Sto sincero Aspetta Due Qua là No No Non serve fare questo Perfetto Ok E allora E allora niente Qua Muori viti di muro Illusorio No Va bene E quindi E quindi niente Quindi scendiamo Sta lì Del Del Ah Ok Accogli Oggetto essenziale Palla di cannone Preste Di artiglieria Uuuu Aia Quindi va Va bene E vabbè Allora E E Minchia E Come faccio Come faccio Dietro Ok Ok 1 2 3 Ok Ok Fammi Ok Ok Va bene Va bene Torniamo di qua 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 si scende Salute Minchia Rottura Di Ok 1 1 2 3 Amico mio E mi sa che l'amico tuo Non ha fatto una bella fine Ehi E Eh Eh In un modo Nell'altro Eh E infatti Eh Trent'anni Eh Oh E che simul che è svanito L'ha sempre pensato Quindi Questi non pensavo neanche Che non erano neanche figure Che si stesse Ah No Eh Non sento niente No No Mangerà Ok Oggetto preziato Petalo di Soma Petali trovati Tra quei 4 pene di Soma Per aumentare la salute massima Va bene Ok Ehm Va bene Ok Quindi Eh Sto Ok 1 2 L Oh A questo punto Le cose alle frecce Voglio capire Servirà qualcosa A queste cose alle frecce Intanto interagisco qua Non sto per Amoletti Non ne ho aggiunti altri Giusto Va bene 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 Non ci arriverò mai Ok 1 1 Ho 1 2 3 Siamo avanti di qua Ok Un attimo Ok Un pochino di danno Mi sono preso Ma va bene Ah si qua era quello che Quello che non si poteva fare Va bene Ok E 2 E 2 E a lei Poi Ah Mi ha aiutato Giusto Ok Ricordi Ricordi All'attacco Eh Ordinavano alcuni nodi Asconditi a bordo Ma devi mangiare un porto Così Ok Forse è nascosto nella foresta Noi ricordi all'inizio Siamo persi Gli arcedi di palazzo All'armi della cittadella E nella foresta Riesci a sentire i suoi sussuri Sono libero No Il mio amico Il mio ultimo amico È libero Sì Siete liberati i due I miei amici No Resto qui Per se lo riguardi Alla sua tomba Perché non diventerà la mia Vabbè Sei scemo Ok E qua Ok Vabbè Tu hai deciso Restare riguardo Alla tomba di quello lì Contento tu Contenti tutti Contento tu Contenti tutti Io direi Ok Qua mi sono preso ancora del danno Ma è qua Io E' stata la terza volta Che vengo qui Comincio Comincia Comincia la labirintite Signori Comincia La labirintite Allora Comincia di qua Poi di qua Poi di qua Ok Ora Ora di qua Mi stabilisco tutto Ok Ok Ah Tu sei nemico Ho sbagliato Tasto E Volevo premere Per Questa è la schivata La cosa Non Ok Vai Porca Porca Oh Porca Ok Oh Io Mannaggia Mannaggia la miseria Ah Da Giustamente Per Poi Qua Parla A chi Sì Ah A questa mappa Sì 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 Eh Sì Ok Ok Non ho detto C'ho la mappa Arrivederà una parte Della mappa Del mondo Ok Guarda a casa E' la parte Che già conosco Allora Poi Ma poi che sto botto Vuole capire perché Eh E' pieno di canti Della foresta Della foresta L'ha invaso Non sia un vento Di rabbia Vabbè E' ok Io ho preso Una caterva Di danni Allo Vado giù Va Ok Ah mi son ripreso Accogli Che ho preso Collezionabile Zanna di Erlich Lunga Affidata Trancerita Niente Non Ok Quindi poi Devo scendere Giù Va bene Qua Si può passare Che ci sono Stai Erlichi Porto sommerso Porto sommerso Che cacchio Prima andiamo di qua Ah vabbè Ah vabbè Sono due Due modi di andare Nella stessa direzione Allora Allora fammi Fammi Guarda cosa c'è di qua Allora Apriamo Che abbiamo qua Frammenti di memoria Aumento uno dei frammenti Aumento uno dei frammenti Di memoria Ricordati di fissare Stesse immagini Ok Vabbè Come dovrei Come dovrei Come dovrei Ok Ok No Proprio Istantaneamente Si abbassa Quindi proprio Non No Ci deve essere Un modo Per tipo Bloccarlo E se c'è un modo Per bloc Qualcosa E se c'è qualcosa Per bloccarlo La domanda è Cosa Ecco La domanda è Esattamente Cosa O bloccarlo Cioè qualcosa Qualcosa Rispostabile Qualcosa Che possa Tenere Comunque Aperto Però Qua c'è la foresta Ercana Allora Torniamo giù Porto Sommesso Ok Magari Magari Qua No 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 E allora Devo Perfect Quindi devo Ok Uno Due Tre Vedere E qua però E c'è sempre Sogno Il discorso Qua Non si apre Qua è sempre Se cacchio di radici Io non so Che cosa è Comincia adesso Un momento Un po' Porca Ok Ok Posto Ah Otra Porca Porca Fanculo Oh Bisogna Ci sono anche queste cose Che mi Caricano Un Asso Non posso Io voglio capire Come si fa Dove si va Allora Qua non c'è Non è quasi E qua c'è Allora Qua c'è sto problema Io adesso Per me Manca qualcosa Allora A meno che Ok Forse Allora Perché Non Perché 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 Allora Di nuovo Ok Ok Allora Ok Forse però Forse ha fatto così No Va Ok Qua qualcosa Non quadra Qua qualcosa Non quadra Viene Qua qualcosa Non quadra Allora Ah tutto Qua è tutto A basso Scusa Albro di Un po' Non viaggio Rapido Per caso Eh No Non ho viaggio Aspetta A meno che Fai vedere Magari Magari È qui Non viaggio Rapido No 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 Nessuno Viaggio Rapido E allora Questo se Ok Ah Vabbè Questi sono Nel posto Ah Ok Dove Qua ci sono Tutte le cose No Oh Che pascoli Vabbè Interagisci Io letteralmente Non so dove andare Adesso Cioè Mi sono Mi sono perso Mi sono perso Mi sono perso Cioè Cioè Non Non ho letteralmente Posso dove andare Posso tornare indietro Ma tornando Tornando indietro Fallo con la mia Ultima morte No 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 Un pezzo Del destino Sai questo Maga Vendo oggetti Miglioramenti Per pozioni Eee Boh Minchia Di cosi Tortura Ah Devo tornare indietro E devo farlo Minchia Di cosi Questo è Questo è E E E E E E Ingiusto Però Queste cose Perché questi Si Mimetizzano Allora Quindi va E Oh Poi Qua E Dove Qua dove ho trovato Qua devo salire Dove E Allora Interagiamo Posso parlarti Eh Ho capito Che sente tutto Però Allora Allora Dottor Minchia Devo rifarmi Tutta sta strada Ok Ok Fermi Che forse C'è una svolta Un ric Un ric Un ricordo Che svolta Ricordavo Che Io Per Io Io Vabbè Voglio capire Perché Tanto Farsi così Bastardo Gioco Perché Ora 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 Di qua Ok Esci Ah Dai Comunque Parata Devo prendere Con Un certo Antigio Oh Marca Ok Questo è andato Ok Qua Qua Più Là c'è un altro Giusto Oh Io posso Cafuttare Di più Di più Potè Oh Ecco Ok Ok Vedi A volte Un ricordo Una cosa Ricordata male Ti pergiudica Tutto Ora Qua Qua Ah E' uno shortcut Probabilmente Solo Un shortcut Solo Uno shortcut Vabbè Ok Porca Vabbè Tra l'altro Neanche Ok 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 ah perché ok io ho fatto perché ho fatto la cosa ho fatto la cosa la mossa potente va bene ah ok ok mmmm no ah Sì Ok Ok Io spero di beccare un altro albero Ok Aia Possolo This is boss Ok Ok Porca mia Ah Porca Ok Calma Ok Perché Ok Ok A posto Che cosa ho guadagnato Nuovo muleto Lupa Trasforma Una piccola parte dei danni subiti in antra accumulata Facciamo letti per suonare lo wok wok E' vero wok Wok Sempre sti archi Non è se ci sti archi Eh Io spero di arrivare Aia Questo Questo lo combatte il suo arciere No E' un altro me Ok 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 L'arma per vita Leggendario Scocca l'oreccia Prendo triangolo Mira con L Ok 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 Ah Ah E' questo Sostamente Ok 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 Vediamo che non bisogna essere un po' precisi Cioè va Per direzionalità diciamo Ora interagiamo qua Io direi che qua Ok Due frecce Amuleto Mi metto Il terzo amuleto Che Mi manca E direi che Per oggi Posso salvare Non posso salvare Credo di sì Sì No Forse Chi lo sa Allora Torna Al menu principale L'ultimo fa Zero Zero minuti fa Ok Quindi è salvato adesso Perfetto Torna Al menu principale E con questa Vi saluto Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima